Ben tornati in diretta, come sapete Fano TV ogni lunedì ospita un sindaco del nostro territorio e questa sera sono in compagnia del primo cittadino di Monbaroccio Emanuele Petrucci. Buonasera sindaco. Buonasera Simona, grazie per l'invito. Grazie a lei per aver raggiunto i nostri studi. Vi ricordo che in sovraimpressione vedete sempre i numeri di telefono per intervenire in diretta o mandarci un messaggio, meglio se con l'applicazione Whatsapp, sindaco direi di partire con l'attualità, con quello che sta accadendo in Ucraina per mano di Putin. Abbiamo però visto tanta solidarietà in tutta Italia ma anche nella nostra provincia. Assolutamente sì, c'è stata una componente in particolare la protezione civile che subito si è attivata anche a Monbaroccio per raccogliere alimenti e fondi per destinarli a chi veramente ne ha bisogno. Noi ci siamo attivati come il Comune di Monbaroccio con le attività economiche del posto, quindi i supermercati, con la farmacia comunale e con tutto quello che è il comparto della protezione civile che tutti i giorni è disponibile per raccogliere quanto i nostri concittadini vorranno donare a chi sta soffrendo in questo momento. Ha invece notizie di famiglie ospitate nel vostro comune anche tramite privati? Assolutamente, sono arrivati i primi 15-20 ucraini sotto un percorso parentale, quindi tra parenti li stanno accogliendo. Naturalmente invito a fare le sanerazioni alla Polizia Locale, ai Carabinieri, nonché alla Prefettura, di tutti coloro che arriveranno anche per quello che può essere un tracciamento fra familiari che potrebbero ricongiungersi grazie alla regia di quella che è la Prefettura. Anche perché probabilmente è una problematica che proseguirà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi soprattutto per quanto riguarda i profughi, quindi è un appello importante. Sono confrontato con due ragazzi ucraini del territorio, Ksenia e Aliona, che saluto e che mi hanno aiutato a raccogliere i fondi a me e alla protezione civile e hanno fatto presente che ad oggi, mentre siamo intorno ai 2 milioni, negli arrivi che i flussi che dall'Ucraina sono usciti, si potrà arrivare sicuramente a numeri molto più importanti nelle prossime settimane. Bene, passiamo adesso invece agli argomenti che riguardano prettamente il comune di Monbaroccio. Direi di partire dalla sfida tra i borghi, perché Monbaroccio che doveva spuntarla tra ben 13 concorrenti marchigiani non ce l'ha fatta, però il vostro progetto era molto ambizioso. Di che cosa si tratta? Abbiamo presentato quasi 24 milioni di presentazione per il borgo di Monbaroccio. Una sfida importante che ha vinto, sarevate avanti di noi, giustamente forse anche i comuni del cratere che hanno sofferto in questi ultimi anni in maniera molto importante. Quindi faccio le congratulazioni al comune di Montalto che ci ha giudicato la cifra, però per noi è stata una sfida. È stata una sfida importante che ci ha visto comunque vincitori da un certo punto di vista. Cioè abbiamo presentato una programmazione per il nostro borgo da qui ai prossimi 30 anni, come vorremmo vedere Monbaroccio, in un percorso sociale, culturale, ma soprattutto digitale, con un'accessibilità al borgo che parte sia dalla mobilità fisica, quindi come accedere fisicamente al borgo, senza quelle che possono essere barriere architettoniche, ma anche tramite percorsi di ciclovie e quant'altro, e poi qualcos'altro sul territorio abbiamo fatto, ma soprattutto digitalizzare il borgo, riqualificarlo dal punto di vista digitale e nell'ottica di un'occupazione. Si era previsto che con il nostro progetto si potevano prevedere all'interno del borgo fino a circa 80 unità lavorative in più, in particolare per il mondo giovanile. E quindi ringrazio tutti coloro che hanno collaborato perché è stato un progetto importante, sicuramente, secondo me, di altissimo profilo e che non rimarrà chiuso in un cassetto. Mi sono permesso di far presente al Presidente Acquaroli, che ha l'assessorato al turismo, di rivalutare coloro che non hanno vinto almeno i primi 5 o 6 progetti che hanno realizzato dei punteggi più importanti che la giuria ha ritenuto tali, e di presentare magari un progetto unico in ambito turistico, digitale e culturale da presentare magari al Ministero e perché no, anche all'Europa. E quindi si spera ancora di poter realizzare questo progetto che prevedeva, ad esempio, nuove aree parcheggi, ascensori, ma anche una partecipazione, un coinvolgimento dei giovani. Assolutamente sì, i giovani erano protagonisti, perché avevamo progettato di dedicare la parte degli uffici comunali a tutto un percorso giovanile, a un co-working, uno smart working, a un punto di confronto che coinvolgessi i giovani e li rendesse partecipi in un confronto di idee che poteva creare sia spunti lavorativi, ma anche una digitalizzazione del territorio, una mappatura del territorio, una promozione del territorio che veniva dalle idee giovanili e dal mondo giovanile, che tanto cerchiamo di valorizzare e con questo progetto che tentavamo di portare a casa, portando appunto queste risorse, poteva essere un punto di svolta. Vero è che quando si hanno i progetti e si hanno dei progetti nei cassetti, prima o poi i cassetti si aprono. È vero, progetti pronti, ma a proposito di risorse, regia, mandiamo in onda invece un video, un video che riguarda il polo dell'infanzia, perché c'è una grande soddisfazione per gli oltre 1.600.000 euro. In questo caso il progetto potrà diventare realtà ed è stato veramente puntiglioso, dettagliato, con uno sguardo rivolto all'innovazione e non solo. Ce lo può raccontare, Sindaco? Allora, io in quella scuola ci sono cresciuto naturalmente, ma non solo ci sono cresciuto, ho abitato davanti a quella scuola per tantissimi anni, perché la scuola era qua, la strada, io abitavo al terzo piano del palazzo che era di fronte a quella scuola, quindi fin da piccolo mi potevo immaginare cosa potesse essere il futuro, tra virgolette, di quell'impianto, che era un impianto, una struttura degli anni 50, con un pilone centrale, quindi costruito su quella che era il periodo del dopoguerra, quindi con una struttura molto particolare. L'idea era questa, l'idea era creare un contesto nuovo laddove la scuola fosse al centro di tutto, fosse al centro di un percorso sociale, nonché culturale, fosse al centro di un percorso anche economico, cioè, cerco di spiegarmi meglio, per quanto riguarda il contesto culturale, la scuola è il punto di riferimento per tutti, nella sicurezza dei nostri ragazzi, nella qualità dei docenti che ho la fortuna di avere a Monbaroccio. Per quanto riguarda il punto sociale, come vedi, Simona, sopra quella scuola troverai due piazze a sbalzo, due piazze che attualmente è una frazione villagrande, laddove sorge questa scuola, che non ha piazze, non ha punti di riferimento, non ha il cuore, e se una frazione non ha il cuore, spesso gli manca anche l'anima. E quindi cercavamo di realizzare questa piazza in quel luogo, come ottimizzare il tutto? Sopra un edificio, che è quello della scuola d'infanzia, che anziché crescere su due o tre piani, come sviluppato attualmente, si svilupperà in orizzontale, quindi tutta su un livello. Ma quindi sarà anche accessibile al pubblico quella piazza? Assolutamente sì. Non rimarrà prettamente per gli studenti? Abbiamo un primo sbalzo, che è quello più verso il basso, che è rivolto agli studenti, e un secondo sbalzo, quello più verso l'alto, rivolto alla cittadinanza. Quello che vedete sotto il primo sbalzo, quell'edificio più piccolino, di colore un pelino più scuro, dovrebbe diventare quello che potrebbe essere un nido. Quindi abbiamo creato un polo d'infanzia, laddove il nido e la scuola d'infanzia convergono, ottimizzano i costi, diventano efficienti a livello energetico, quasi nell'autosufficienza, ma soprattutto possono creare un piccolo polo energetico, laddove l'idea è quella di creare degli accumulatori energetici, tali da, come vedi, tutti quei pannelli che creano ombra e quindi hanno il doppio vantaggio, sia di accumulare energia che di creare ambienti in ombreggiato, possono anche alimentare l'energia pubblica del paese, o perlomeno parte di essa. Quindi poter ridurre i costi per i cittadini e pensare che il tutto viene dai nostri piccoli, perché è una scuola d'infanzia, insomma ha un valore forse unico, non lo so, però per me è una grossissima soddisfazione. Ci sono tante altre novità e chicche. Intanto quanti bambini potrà ospitare? Allora, il progetto prevedeva non un metro cubo in più rispetto all'esistente, o meglio, se tu avessi ridotto la scuola rispetto all'esistente, avresti preso anche dei punti in più. Questo per me era una difficoltà, nel senso che io vorrei che il paese crescesse, e i numeri devono portare a vedere il futuro in crescita, altrimenti non avremo il ruolo che ricopriamo. Pertanto abbiamo mantenuto le stesse cubature, quindi anche rinunciando a dei punteggi. Abbiamo attualmente tra i 50 e i 60 bambini, 58 quest'anno, qualcuno il prossimo anno, speriamo in più. Naturalmente in questo contesto di flussi ucraini bisogna valutare anche questo, perché potrebbero essere figure da accogliere. Perché no? Abbiamo avuto dei flussi migratori importanti anche negli ultimi anni che si sono integrati anche durante il corso dell'anno scolastico, sia per la scuola di infanzia, sia per la primaria che la secondaria di primo grado, che abbiamo in Baroccio. E quindi attualmente lo sviluppo prevede questi 50, 58 scusami, barra 60 ragazzi, bambini e bambine, nonché i docenti, con la previsione magari un domani di poter, perché no, ampliare questi spazi. E come saranno suddivise le classi, le aule? Allora, noi attualmente abbiamo due comparti. Io quando vado alla scuola di infanzia, la mattina mi diverto tantissimo a sedermi in quelle seggioline insieme ai nostri bambini. C'è l'aula blu e gialla in questo momento. E l'aula verde al momento è sguarnita, perché i bambini appunto sono un numero abbastanza limitato, purtroppo. E sarà tutta assemblata sul basso, quindi con una mensa, con uno spazio ricreativo, tre ambienti, un giardino centrale, che converge al centro di queste aule, più un altro giardino esterno, che in questo caso non riuscite a vedere, perché si affaccia verso il lato, verso Mon Baroccio in questo caso, quindi il lato est. E al contempo c'è un collegamento con la struttura superiore dove è previsto questo nido di infanzia. Abbiamo anche l'idea di convergere, in questo progetto l'abbiamo indicato, su un'area limitrofa di proprietà comunale da riqualificare per creare un ambiente legato allo smart working. Cioè pensiamo al genitore che accompagna al polo di infanzia, piuttosto che al nido, o che sia la scuola di infanzia il loro e il proprio figlio, e possa fare attività lavorativa limitrofa alla scuola stessa, in modo tale che, in particolare per il nido, ci possa essere l'assistenza da parte del genitore nel qual caso ci fosse necessità. Beh, una bella iniziativa. I tempi di realizzazione più o meno? Allora, sicuramente entro il 2026, perché siamo tarati a giugno 2026 come fine lavori. Chiaro che prima iniziamo, e meglio è, ci sono tutti i tempi burocratici, perché è vero che sono 1.650.000 quelli che ci ha dato il bando, ma ci sono anche altri 150.000 euro che arrivano circa da quello che potrebbe essere il contributo GSE, che portano la cifra a 1.850.000 otterrato intorno a 1.9.000, barra 2.000.000 l'intervento, verrà naturalmente da risorse comunali che possa essere un avanzo libero o un mutuo da prendere, insomma. Sindaco, un altro argomento molto caro, Monbaroccio, è quello dei briciotti. Quali sono le novità, se ci sono? Questi articoli, non so dove li avete presi, però sono vecchi di tre anni circa. Quando facevamo le prime battaglie, dove sembrava che la struttura dovesse chiudere, dove sembrava che la struttura dovesse privatizzarsi. E si sia ne parla da tanto tempo. Assolutamente sì, assolutamente. L'ho vista... Tante battaglie che l'hanno vista anche protagonista. Sì, abbiamo lottato tanto ed è l'orgoglio dei Monbaroccesi. Questa è una struttura che fino al 1980 era di proprietà comunale, poi passata con la riforma sanitaria alla Regione. Ed è una struttura che per noi è un punto di riferimento, sia per la storicità, che per l'indotto diretto, indiretto. Insomma, è il nostro cuore. Tant'è che in una battuta dissi quando mi confrontai con i subriciotti a chi in ambito sanitario sono occupato che preferisco dimettermi io sicuramente, ma tenete a perdere quella struttura, perché non avrebbe senso che quella struttura andasse a morire, perché non verrebbe meno il mio mandato. Invece oggi ci ritroviamo che, grazie, io dico grazie sia al Presidente Acquaroli, che all'assessore Baldelli, che all'assessore Saltamartini, che si sono occupati direttamente della vicenda, che mi hanno accolto in Regione per parlarne, trova un punto di svolta. Trova un punto di svolta, perché fondi PNRR 3 milioni e 6 sono pronti per essere stanziati, questo da delibera regionale approvata qualche settimana fa, con una prospettiva importante. Noi ci siamo permessi con l'IRCA, con l'ASUR, con l'Università di Urbino e con l'Ambito Territoriale e Sociale 1, di cui facciamo parte, di presentare un progetto alla Regione, dopo averlo approvato in Consiglio Comunale, all'unanimità, il 31 di maggio del 2021. Un progetto che prevedeva una riqualificazione del briciotti, ponderata sull'RSA ed RSA Alzheimer, vista la carenza in particolare di posti Alzheimer che gravano sulla nostra provincia, c'è una mobilità passiva importante, anche nel merito. Un progetto che penso sia stato accolto favorevolmente dalla Regione, e forse quelle risorse arrivano anche dal contributo che abbiamo dato io e i miei colleghi in Consiglio Comunale, tutti dal primo all'ultimo, maggioranza e minoranza, nell'obiettivo di riqualificare una struttura del genere. Devo ringraziare, Simone, permettimelo, anche il Presidente della Società Sportiva Calcio, perché questo è Marzio Marcolini con tutta la società e anche la nottele stesso, perché la riqualificazione di quella struttura doveva essere rivista su una struttura che il Comune doveva avere già a disposizione e che non era quella esistente. perché l'obiettivo era creare una struttura tutta sul livello e non sfalsata come questa. L'unica struttura che potevamo mettere subito a disposizione era quella che era l'impianto sportivo dove abbiamo attualmente il campo da calcio. Mi sono confrontato con la società, naturalmente, prima di prendere una decisione così importante, e non hanno fatto mezzo passo indietro. Cioè, hanno detto ci mancherebbe altro. Quindi non hanno fatto una battaglia contro, ma... Anzi, collaborativi al massimo. sono stati forse loro a incentivarmi da subito a partire. Quindi vi devo ringraziare apertamente per tutto l'appoggio che mi hanno dato perché appunto parto dalla premessa la sensibilità che c'è in Monbaroccio e nei monbaroccesi nei confronti di questa struttura. E ad oggi ci troviamo che questa struttura potrà essere realizzata in una struttura in un luogo estremamente pianeggiante, facile da raggiungere e che permetterà anche eventuali sviluppi visto lo spazio messo a disposizione. E su questo, insomma, mi permetterò di continuare ad avanzare qualche proposta anche se penso non ce ne sarà bisogno sia l'assessore alla sanità che è quello alle infrastrutture Valdelli, insomma. Ecco, chiedo alla regia se è possibile proviamo a contattare Valdelli che spesso segue anche Fano TV per avere un confronto con lui e una battuta. Intanto andiamo avanti parliamo degli interventi relativi alla scuola primaria e secondaria lavori che vanno verso la fine a settembre i ragazzi potranno fare rientro in classe? Su questo devo ringraziare sia la ditta ma anche il mio ufficio tecnico in particolare l'ingegner Sabatini che hanno seguito l'evoluzione dei lavori veramente con tanto attaccamento e con tanta dedizione. Questo intervento ammonta circa un milione e 700 mila euro perché abbiamo ottenuto altri 200 mila euro di risorse nell'ultimo anno per l'ampliamento legato al covid questo è lo spazio ampliato sono altri 250 metri di ambienti in più e stanno andando verso la fine mi auguro che non ci siano intoppi anche perché i disagi purtroppo per i ragazzi dalla primaria che erano all'interno un sacco di lavori in corso Simona potrebbe un motopicco dei lavori danno fastidio agli insegnanti che cercano di svolgere il loro lavoro però per questa estate sembra che per luglio agosto potremo mettere la disposizione di nuovo di tutti i ragazzi anche se dico la verità averli nel borgo come li ho avuti e li ho accolti negli uffici comunali per fare attività didattica è stato è stato bello anche perché abbiamo rivitalizzato il borgo abbiamo fatto vivere il borgo ai ragazzi e credo che sarà anche difficile un pochettino riportarli via dal borgo per riportarli però con una scuola nuova sicuramente troveranno un ambiente ad hoc per fare quello che devono fare mi dicono dalla regia che dovremmo avere in collegamento Francesco Baldelli assessore della regione Marchia ai lavori pubblici infrastrutture ed edilizia ospedaliera buonasera Baldelli buonasera Simona so che lì c'è anche il sindaco Petrucci un saluto anche al sindaco di Monbaroccio buonasera assessore grazie assolutamente sì vorrei fare con lei un veloce botte risposta e poi passiamo anche ovviamente alla lettura di messaggi dei cittadini di Monbaroccio partirei assessore dall'edilizia scolastica perché Monbaroccio ha presentato un progetto intuitivo ma come è riuscita a sbaragliare la concorrenza anche perché c'erano dei criteri molto tosti nel bando sì devo dire la verità che non ci ha sorpreso Monbaroccio perché sappiamo che ha un'amministrazione molto attenta e molto attiva e anche questa volta ha fatto bella figura ha fatto far bella figura la provincia di Pesaro così come devo dire tanti altri comuni che hanno dimostrato un livello molto alto di capacità progettuale ha saputo interpretare bene il bando che abbiamo realizzato come assessorato alle infrastrutture in questo caso all'edilizia scolastica perché ha messo la scuola al centro della vita cittadina quindi ha presentato un progetto innovativo per la scuola che non guarda più al passato ma che guarda al futuro questo gli ha permesso non solo di vincere il bando ma di arrivare in testa questa classifica che abbiamo stilato con la nostra commissione di gara quindi veramente complimenti a Monbaroccio e devo dire complimenti alla provincia di Pesaro che sui primi quattro progetti ne piazza tre quindi una bella immagine della nostra provincia ecco assessore risorse importanti diciamo poco fa anche per i briciotti sì lì un intervento che rientra all'interno del miliardo che abbiamo destinato come giunta regionale alla riqualificazione delle strutture sanitarie sul territorio e ospedaliere il briciotti è rientrato tra le strutture socio-sanitarie per le quali ho collaborato e abbiamo collaborato insieme all'assessore della sanità l'assessore Saltamartini e abbiamo individuato questa esigenza il briciotti aveva delle difficoltà da tempo delle lesioni da tempo ristrutturare o costruire una struttura nuova anche qui in maniera molto propositiva devo dire il sindaco Petrucci si è rapportato con la regione con il presidente in primis Acquaroli con l'assessore Saltamartini con l'assessorato che ho la fortuna di rappresentare abbiamo trovato un'ottima soluzione per il comune di Bombaroccio ma io dico per tutta la nostra provincia perché avere una serie di strutture socio-sanitarie ed ospedaliere diffuse in maniera omogenea sul territorio è un valore aggiunto ce l'ha dimostrato anche il Covid abbiamo bisogno di strutture filtro verso le strutture maggiori sia strutture socio-sanitarie che strutture ospedaliere e questa è la filosofia della giunta Acquaroli che non fa distinzione tra grandi e piccoli centri tra costa entroterro tra nord e sud della regione e come dite spesso appunto una sanità diffusa sul territorio chiudiamo invece con i borghi perché il comune di Montalto si è aggiudicato questa sfida molto importante ho letto in questi giorni però alcune polemiche sul mancato rispetto dei criteri in particolare per l'unità mobiliare che cosa è successo poi? stiamo parlando della sfida dei borghi dei borghi ma è un bando che assegnava 20 milioni di Euro per una scelta governativa che devo dire anche la verità abbiamo in parte contestato nel senso che 20 milioni sono tanti potevamo scegliere il governo poteva scegliere anche criteri diversi per la ripartizione di queste risorse magari ai primi 4-5 borghi che presentavano progetti interessanti importanti come nella nostra provincia alcuni comuni hanno presentato dei progetti molto qualificati ancora una volta ancora si è classificato in cima alla classifica nei primi posti il comune di Monbaroccio ma al di là di questa diversa valutazione che avevamo col governo nazionale l'assessorato alla cultura ha dovuto stilare una gradatoria che è avvalza di una commissione che ha messo a terra i criteri per la selezione del borgo dei borghi ed è stato scelto questo comune della provincia di Ascoli Piceno io direi che la presenza della commissione tutta esterna è una garanzia una garanzia in una scelta comunque difficile perché i progetti presentavano anche qui qualitativamente una pregettualità che poteva essere premata anche in toto non è stato possibile per le regole poste dal ministero ma so che già il senso Petrucci ad esempio ha suggerito all'amministrazione regionale di raccogliere alcuni di questi progetti i primi classificati in un unico progetto magari da presentare all'Unione europea per una seconda tranche di finanziamenti perché la regola è questa chi ha i progetti nei cassetti fa bene ad averli perché poi l'occasione per vederseli finanziati sicuramente in questi anni si troverà Assessore grazie per questo suo intervento le auguriamo una buona serata grazie Assessore grazie a voi un saluto a tutti i telespettatori di Fano TV e al Silvaco che è lì con lei Simona grazie mille grazie Assessore arrivederci dunque cominciamo con due messaggi intanto le dicono il miglior sindaco l'abbiamo solo a Monbaroccio grazie Emanuela a te e alla tua fantastica squadra non lasciateci mai più e invece un'altra richiesta buonasera sindaco sono un suo cittadino per quanto riguarda i lavori per i cavi della fibra ottica che sono stati eseguiti a Villa Grande per quanto tempo ancora dobbiamo transitare con le nostre auto come se fossimo sui viadotti delle autostrade spero che lei abbia capito di che cosa parlo quindi lì sono stati eseguiti dei lavori però deve essere rieffettuato il manto stradale il cablaggio dovrebbe terminare il 31 di marzo quindi se posso dare una data l'obiettivo è quello attualmente sembra che il grosso sia terminato anche se sono rimasti dei lavori di asfaltatura sicuramente da effettuare perché purtroppo non è come ci insegnano a meno a me mi insegnano lasciare come ho trovato o anche meglio in questo caso non è stato così quindi toccherà e bisognerà affrontare un percorso di asfaltatura e capire di chi saranno le responsabilità per affrontarle chiaro è che al momento i cantieri sembrano terminati almeno sulla frazione di Villa Grande che è quella un pochettino più trafficata e quindi anche a fronte della difficoltà di asfaltatura comunque il transito è garantito e anche in sicurezza passiamo al disesto idrogeologico perché anche in questo caso sono partiti i lavori sono partiti i lavori anzi sono all'ultima azione perché questo che vediamo è l'intervento al cimitero dove abbiamo preso un fondo ministeriale fra i 50 e i 75 mila euro che è al termine quindi se doveste riaffrontare questo percorso vedrete che i lavori e questo grazie all'ufficio tecnico che ringrazierò costantemente per quest'estate dovremmo poter riaprire il parcheggio del cimitero mentre questo è un lavoro che dovremmo cantierare questo insieme a quello di via Turlo abbiamo portato a casa in questo caso circa 145 mila euro di cui copartecipati con la regione un 75% ed è una frana che abbiamo costantemente nell'area di via panoramica e che ci crea grosse preoccupazioni perché comunque non è mai stato fatto un intervento in passato e perché a occhio nudo si vede che la friabilità del terreno potrebbe risentirne in futuro quindi dobbiamo intervenire quanto prima le risorse ci sono le abbiamo stanziate stiamo lavorando per cantierare so che Monbaroccio studia anche il caffè Alzheimer ma ci sono tante cose di cui ancora dobbiamo parlare ci fermiamo per qualche istante di pubblicità bene siamo di nuovo in diretta con il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci vado a leggerle alcuni messaggi le chiedono intanto se si può trovare un locale ricreativo in paese per gli adolescenti di Monbaroccio sono un bel gruppo perché mi trovo il fine settimana a questi 20-25 ragazzi che mi richiedono degli spazi che attualmente cerco a cui cerco di rispondere tramite lo spazio del teatro e quindi cerco di coinvolgerli lì anche se capisco che avrebbero bisogno di un ambiente più importante più consona quelle che sono le loro attività abbiamo lavorato sui ragazzi universitari concedendoli Porta Marina ultimamente per un punto di confronto di studio e mi piacerebbe che nell'ottica della riqualificazione di Palazzo del Monte ci fosse possibilità anche di poter destinare alcuni ambienti a quelli che possono essere le attività dei nostri ragazzi un altro messaggio per lei le chiedono come procede il progetto della ciclabile Monbaroccio-Fano quindi la ciclo Arzilla alla quale ha aderito anche Pesaro finalmente sì è stato l'ultimo confronto con Pesaro è stato fatto circa un mese un mese e mezzo fa dove abbiamo chiuso un pochettino la volontà da parte di Fano e di Pesaro di Fano e Monbaroccio per coinvolgere anche la città di Pesaro è un progetto che era partito un anno e mezzo fa un pochettino Pesaro a Targiversato allora siamo andati avanti con Fano il buon senso credo che abbia portato veramente a chiudere un progetto che valorizza le due vallate perché la prima è la prima ciclovia interna come vedi Simona la ciclovia adriatica si riveste a pettine quindi con tutte linee verso l'interno la nostra è quella che collega le prime due linee partendo da nord e quindi la vallata del Foglia con quella del Metauro sono congiunte non solo per la parte adriatica ma anche per il nostro bellissimo introterra una linea che può permettere di svolgere anche attività turistica in particolare d'estate laddove il turista può svolgere sia l'attività la mattina al mare e arrivare magari in mezz'ora con una bicicletta elettrica presso il bosco del Beato Sante per esempio a godere del verde della nostra natura tramite un percorso che questo mi piace ribadirlo è sostanzialmente ecosostenibile non vede asfaltature ma valorizza l'esistente quindi il recupero di strade bianche il recupero di valore e storicità ma anche il recupero di quelle che sono le attività produttive che vengono coinvolti in questa ciclovia perché pensare che in bicicletta puoi attraversare oliveti puoi attraversare vigneti puoi passare attraverso attività produttive locali valorizzandole e facendole conoscere al turista è un valore aggiunto che questo percorso propone a che ci viene a trovare in questo caso invece i tempi? i tempi il progetto è pronto l'idea è quella di andare a richiedere le risorse sia in regione che al ministero che in Europa perché nel momento in cui si crea una sinergia fra tre realtà e tre comuni che vedono in un territorio un unico obiettivo forse è uno di quei progetti che può essere premiato e lo speriamo le fogne a Montegiano sono da sistemare perché l'acqua e chiare non devono scorrere con le scure che cosa può rispondere a questo telespettatore? che ha pienamente ragione purtroppo il territorio mombaro ceso ha circa il 70% di queste problematiche in termini di fognature la stessa problematica ce l'abbiamo al Cairo la stessa problematica ce l'abbiamo al Beato Sante la stessa problematica l'abbiamo in gran parte su Villa Grande quindi è un sistema fognario che andrebbe rivisto la mostranza e la rimostranza è stata presentata a Marche Multiservizi più volte è stata concessa una parte progettuale ancora molto nebulosa e su cui insomma stiamo lottando per fortunatamente almeno per il Cairo si è aperta una voce di bilancio nel prossimo triennio dedicata al rafforzamento delle fognature sperando appunto che con i fondi PNRR e con una buona progettazione si possa almeno assecondare parte di questa problematica rimaniamo a Montegiano le scrivono qualche pattuglia che controlla la zona ogni tanto non farebbe male visto i lavori oggi iniziati con impalcatura per muratori nella sede stradale ha pienamente ragione il servizio notturno è garantito il fine settimana in parte con dei servizi della polizia locale che durante la settimana cerca di assecondare un territorio che è di circa 70 km avremo l'impletamento di un'altra unità di polizia locale tramite il concorso che sta facendo il piano del bruscolo da aprile in poi se il concorso andrà a buon fine quindi può darsi che con quattro figure un servizio maggiore potremo darlo vero è che su Montegiano mi sento di dirlo non so se arriverà qualche domanda avremo un intervento di cui sono veramente orgoglioso che è quello delle case popolari abbiamo ottenuto un bando PNRR da 1.450.000 euro per riqualificare alloggi popolari ne ricostruiremo 6 abbattendo l'edificio esistente a cui anche lì potremo integrare fondi del GSE con la demolizione e ricostruzione per un intervento complessivo di 1.750.000 anzi aggiungo approfitto per salutare gli amici di Montegiano di Montegiano C'è perché dagli ultimi intesi di queste settimane una piccola festa della Crescia la nostra festa della Crescia dovremo riuscirla a farlo in formato naturalmente limitato secondo le contingenze e avremo anche una struttura nuova a Montegiano un piccolo centro civico comunque un punto di ritrovo per gli organizzatori della Crescia che abbiamo realizzato con sforzi delle nostre casse comunali ma che può essere un punto di aggregazione di riferimento per ragazzi che se lo meritano dicevo prima di andare in diretta di questo caffè Alzheimer abbiamo parlato di giovani in questo caso sono giovani che lavorano per gli anziani questo è un progetto bellissimo che è nato con l'università di Urbino con sociologia in un periodo di Covid e quindi ho chiesto l'intervento della dottoressa Genova di Angela Genova la professoressa con cui ho un bellissimo rapporto perché è molto dinamica così come lo sono i suoi ragazzi abbiamo deciso nel periodo Covid di fare interviste ai nostri anziani a casa che magari si potevano trovare in un momento di solitudine vista le distrettezze e queste interviste hanno portato a un percorso che si è innescato con l'università di sociologia portando anche il passato nel presente visto che il Bricciotti e Torninaugia nella nostra struttura è una struttura limitrofa al borgo e che vedeva i nostri anziani quella volta con difficoltà mentali passeggiare nel borgo stesso e quindi è nato il caffè Alzheimer con un punto di confronto per le persone con più difficoltà che si possono però confrontare anche con i nostri giovani in un momento conviviale come quello che può essere quello di un caffè Un altro cittadino ci scrive erano anni che non avevamo un sindaco così attivo e preparato e non è lo stesso di prima quindi una persona diversa sindaco andiamo avanti con i fondi GAL e qui parliamo della chiusura della copertura del chiostro ecco anche qui un altro finanziamento confermato oggi sono 214 mila euro circa stanziati nel merito di questa progettazione una coprogettazione con la regione e con il GAL per circa un 250 260 mila euro di intervento complessivo sperando che i preventivi fatti l'anno scorso siano rispettabili rispetto a quelli che sono gli interventi di quest'anno visto gli aumenti che purtroppo stiamo subendo ogni giorno stiamo cercando di capire se anche quell'intervento possa essere implementato nelle risorse stanziate perché qualche soldino in più l'avevamo chiesto però avremo finalmente una piazza d'inverno dove potremo anche fare ed è quello che è il caffè Alzheimer a quel punto perché avremo un punto dove gli anziani d'inverno potranno ritrovarsi al caldo perché sarà un luogo completamente chiuso confrontarsi e vivere anche i musei che sono limitrofi come quello della civiltà contadina piuttosto che dell'arte sacra nonché la chiesa di San Marco e quindi avere un punto di socialità e cultura che può permettere anche tante tante altre situazioni su cui sviluppare se d'accordo facciamo una carrellata di immagini qui siamo al Cairo Cairo questa è la pista che abbiamo riqualificato abbiamo creato un punto giovanile abbiamo messo finalmente i canestri a Monbaroccio perché non c'era l'ombra di un canestro prima della nostra amministrazione c'erano solo piste da calcetto e anche la pallavolo quindi avremo per chi vorrà giocare a basket o a pallavolo a Monbaroccio anche uno spazio dedicato e approfitto per salutare gli amici del centro civico che sono lì anche loro con loro abbiamo l'idea di ripartire con la festa della Tagliatella naturalmente nel rispetto delle contingenze e delle limitazioni che saranno previste un messaggio al volo e poi andiamo avanti il campo sportivo dove verrà poi collocato avete già indicato un posto dove creare il nuovo impianto sportivo noi abbiamo tre aree che abbiamo identificato aree che saranno condizionate dai progetti che andremo a ricercare per esempio stiamo lavorando con Colli al Metauro e Cartoceto per un bando di rigenerazione urbana che se dovesse andare in porto potrebbe vedere il campo sportivo collocato in un'area particolare piuttosto che altri bandi che andremo a seguire laddove collocare un impianto sportivo ad oggi ne abbiamo individuate tre parliamo di borghi però guardiamo un video così lo commentiamo insieme ecco questa linea dei borghi 20 mila 20 milioni erano 20 milioni di euro per un unico borgo vero è che questo video è nato da una relazione che abbiamo avuto con l'Università di Urbino e una collaborazione fortissima con l'Università del Texas Sant'Antonio era un percorso che avevamo attuato con questa Università che doveva venire a Monbaroccio nella prima settimana di marzo e l'8 di marzo è partito il lockdown perché eravamo nel 2020 e allora questi ragazzi curiosi della nostra realtà hanno voluto analizzare Monbaroccio per come potevano quindi raccogliendo tutto il materiale in formato digitale in formato cartaceo e facendo un progetto in particolare sul Palazzo del Monte che è quella struttura bellissima che trovate lì questo è il professore che ha organizzato tutta la progettazione insieme ai suoi ragazzi che sono in parte visibili nei piccoli schermi che vedete in alto e che ha visto in Palazzo del Monte nelle immagini che vedete il primo progetto digitale di riqualificazione di un palazzo senza essere mai stati in quel palazzo quindi hanno fatto un lavoro impressionante con idee giovani con una mentalità giovane e quindi è veramente un percorso di rinascimento legato a quello che è l'idea dei nostri ragazzi in particolare questi ragazzi che vivono oltreoceano e che hanno voluto regalarci un progetto che abbiamo avanzato appunto anche alla Regione Sierra nella linea dei Borghi la linea A Borgo dei Borghi ma che adesso presenteremo anche nella linea B quindi riqualificazione di una struttura all'interno del borgo e quindi in questo caso Palazzo del Monte stiamo andando a ricercare un milione e 600 mila euro che vanno nella direzione di riqualificare parte di un palazzo che avrebbe bisogno di un intervento complessivo di 3 milioni e 800 mila euro secondo il progetto preliminare che abbiamo e siamo riusciti a redigere tanti progetti nel cassetto però come dicevamo all'inizio andiamo avanti con i lavori di recupero esatto questi sono lavori stanziati per 145 148 mila euro perdonami Simona un mila euro in più un mila euro in meno qualcosa mi sfugge perché erano soldi che avevamo acquisito l'anno scorso dal GAL quest'anno abbiamo messo in cantiere e quindi l'ufficio tecnico si sta adoperando per riqualificare via Pontaccio nell'ottica di una sostenibilità e una mobilità ma anche rendendola un pochettino più luminosa quindi portando anche l'illuminazione pubblica questa strada che è il Pontaccio collegherà la chiesa di Villa Grande con gli affreschi di Ciropavisa alla chiesa di San Marco dove allestiremo una mostra permanente di Ciropavisa quindi avremo l'artista Ciropavisa nato a Monbaroccio conosciuto in tutta Italia che sarà collegato attraverso la via dell'acqua mi piace amarla così per la sorgente che vige in questa via e collegherà due ambienti storici come la chiesa di Santa Susanna in Villa Grande e la chiesa di San Marco a Monbaroccio parliamo adesso invece dell'acqua perché insomma siete alla ricerca di risorse per questa seconda casetta esatto questa è la prima casetta che abbiamo montato a scuola l'idea è quella di presentare l'installazione di una seconda casetta presso la scuola di infanzia laddove avete visto il progetto iniziale perché avevamo l'obiettivo di allestire due casette laddove abbiamo due istituti scolastici proprio per fare capire il valore dell'acqua ai nostri ragazzi e soprattutto per far sì che l'acqua non venga sprecata ma venga anche soprattutto recuperata e valorizzata dai nostri giovani Emanuele sindaco d'Italia Monbaroccio Rinata grazie ragazzi per tutto l'entusiasmo e l'amore che state dedicando al paese e a noi monbaroccesi questo è un altro ancora sindaco andiamo avanti la storia dei Sarano diventa un film eccola qua una foto importante soprattutto un annuncio importante che avete dato qualche settimana fa e quindi vediamo ecco la memoria ci porta anche oltre l'oceano noi non dimentichiamo giustamente come ha riportato non vogliamo dimenticare siamo in una fase in cui chi ha vissuto quei tragici momenti purtroppo per longevità viene meno nel tempo e noi abbiamo il dovere tramite le scuole tramite tutte le forze che possiamo mettere a disposizione e di far sì che tutto non venga disperso ho avuto la fortuna di conoscere delle persone speciali nella commissione di valutazione dei lavori in tutto quello che è stato l'excursus di questi due anni e mezzo di mandato mi ha portato anche in Germania in ottobre a conoscere gli amici tedeschi la famiglia Heder che sarà poi protagonista insieme alle sorelle alla famiglia Sarano di quello che sarà il film che il produttore Armand Julian ha deciso di fare sul nostro territorio per circa l'80% ma anche su Coglie al Metauro in particolare sulla linea gotica Montemaggiore e anche qualcosina su Pesaro dovrebbe essere realizzato pensare di portare Monbaroccio in un percorso così importante e mi dicono anche con attori di alto profilo e quindi per me è un valore aggiunto che dovrebbe cominciare a vedere la luce nel aprile-maggio del prossimo anno quindi 2023 dovrebbe essere l'anno di riprese in un momento in cui andremo a festeggiare anche l'ottocentesimo anniversario del Beato Sante quindi dalla costruzione che ha voluto San Francesco 800 anni fa e credo che sia una cosa meravigliosa che mi porterà lo dico anticipatamente ai miei amici Timobaroccesi perché l'ho detto solo oggi al mio vigile Franco Generali che ringrazio ogni giorno in Israele ad aprile e quindi il percorso come avevo sognato si va a chiudere con la famiglia Sarano che in questo momento viva Gerusalemme su invito del Presidente di Israele e quindi insomma una bella storia comunque da raccontare a maggior ragione in un periodo che stiamo così tragico che stiamo vivendo ed è bello anche il fatto che volete raccontarle tramandarla alle nuove generazioni questo con noi ci sono sempre le scuole su questo progetto con noi ci sono sempre state le scuole e questo per me è una grande soddisfazione perché l'obiettivo appunto è tramandarlo ai più giovani andiamo avanti perché eccolo qua vediamo una foto che riguarda il nuovo consiglio direttivo di Avis anche qui si parla di un altro tipo di solidarietà ma pur sempre importante e per la vita questa è forse una delle solidarietà per eccellenze almeno per me è così perché donare per gli altri e donarsi per gli altri è la cosa più bella che ognuno di noi possa fare la gratificazione che ognuno di noi possa avere ringrazio Paola Grigioni perché in qualità di nuova presidente nonché consigliera comunale si è messa a disposizione eccola qua di una richiesta che gli ho fatto perché gli ho detto ragazzi qui siamo consiglieri ci mettiamo la faccia e se l'Avis in questo momento è un presidente che ringrazio perché Navario Iacucci ha dato tantissimo il fratello di Varis ha dato tantissimo e purtroppo in questo momento non sta benissimo e aveva bisogno di qualcuno che lo sostenesse quindi lui è rimasto come presidente onorario e lei ha preso le sue redini insieme a un gruppo in parte nuovo in parte qualcuno è rimasto non posso che ringraziare da parte di tutta l'amministrazione comunale perché è un valore aggiunto per me per noi e per tutto il territorio ma soprattutto è un valore aggiunto perché chi su certi letti ci passa intere giornate attaccato a determinati sacchetti di quel color rame arancione e si chiede cosa c'è e chi c'è dietro a quei sacchetti e chi li ha donato vedere certi volti per me è un orgoglio ogni giorno Sindaco grazie per essere stato nuovamente con noi grazie a voi per l'invito e buona serata a tutti grazie anche regia Riccardo Sora Cristiana Guerra e vi ricordo mi raccomando che da domani Fano TV è visibile sul canale 19 quindi se non riuscite a vedere la nostra emittente dovete risintonizzare la televisione oppure il decoder grazie ancora a Emanuele Petrucci e un augurio a voi di una buona serata arrivederci a domani Grazie a tutti